Sono contento di avere qui una persona che è stata indicata fra le 20 persone del mondo che possono cambiare il 2020. Si, figuri come siamo messi. Non lo dice Mario Giordano, lo dice l'inglese The Times. Eh, se lo dicono gli inglesi sia chiaro, noi italiani che siamo sempre un po' provinciali, quando le cose le dicono gli italiani è un pregazione, se le dicono gli inglesi... La porta in redazione, visto che parliamo di giornali abbiamo... Quindi non andiamo al cinema. No, stavolta non al cinema, ma stavolta in una redazione. L'ha visto? Abbiamo fatto tutte le copertine del mondo. Abbiamo provato a immaginare perché è vero. Buonasera, buonasera, buonasera. Prego, si accomuni a destra. Che accoglienza, grazie. Abbiamo immaginato un po' di copertine. Perché sai cosa pensavo? Non pensavo a tutte le imitazioni che le han fatto qua in Italia. Io credo che lei sia... No, almeno nove. Nove. Un secolo di Italia. Ne possiamo vedere a Donato? Facciamolo vedere a subito qualcuna. Sto piantonando purtroppo un presepe perché anche quest'anno è Natale sotto attacco e sta per essere purtroppo oscurato. Guardami nell'occhio, devi votarmi. Perché io sono una persona che studia e sa che in questo presepe, tra i remaggi, ci sta un nigeriano interamente ricoperto d'oro, come lo zingaro, che ha pure il reddito delle cittadinanze. E dietro l'arpresepe c'ha pure parcheggiata una Mercedes. Ma di me dicono che son toro, che son cazzuta, che son una coi palle. E la sua qualità fondamentale? La femminilità. Sa che cosa ci faceva ridere, no? Perché l'hanno sempre descritta come romanaccia, un po' coatta, eccetera. E poi invece appunto le copertine internazionali. C'è una grande distanza. Allora, era esagerata quella descrizione. Adesso non è esagerato questo... Ma secondo me, se lei lo chiede a me, ovviamente la descrizione è così, insomma, di una persona così sguaiata. Ecco, che è stata spesso fatta di me, secondo me eccessiva, ma è vero che sono... No, vabbè, ma... È vero che sono delle caricature. Cioè, la caricatura tende a caricare i tratti. Io non posso nascondere che sia un tratto distintivo della mia figura, la romanità. Ecco, non l'ho mai neanche nascosta. Io credo veramente nel valore dell'identità a 360 gradi. Sono romana, ma perché lo devo nascondere? Poi ho tentato, cerco chiaramente, di parlare il mio perfetto italiano. Parla bellissimo le lingue, mi risulta. Io parlo, io ho studiato lingue. E appunto, qualcuno, proprio pensando che la Meloni, che si è nossa a parlare l'italiano, parla l'inglese. Qualcuno disse, la Meloni parla meglio l'inglese dell'italiano. Ma in realtà... Ecco, ma queste 20 persone che possono cambiare il mondo... Cioè, nel mondo ci sono 20 persone che possono cambiare il 2020 e una di queste lei. Non è un po' esagerato? Mio nonno contadino diceva, esagerou manen. Secondo me, sì. Nel senso che... Poi ho dato un'altra lettura all'articolo del Times. Cioè, il Times dice, shape the world. Cioè, vuol dire scuotere il mondo. E allora, lì, se pensiamo all'Italia, che ricordiamoci essere una delle più grandi potenze mondiali, quindi quando qualcosa accade qui, in qualche maniera coinvolge il mondo, chiaramente, se si guarda allo scenario di questo 2020, il mio obiettivo per questo 2020, io non ho l'obiettivo, diciamo, per ora, di cambiare il mondo. Ho però l'obiettivo per ora di fare del mio meglio per cambiare l'Italia. Come? Arrivando a libere elezioni, dando a questa nazione un governo che possa durare cinque anni, che possa avere il coraggio di fare quello di cui c'è bisogno in questa nazione. Allora, adesso ci arriviamo a cercare di capire se si può. Però prima vorrei fare un'altra domanda, perché per cambiare adesso la sua capacità di essere tosta, determinata, insomma, adesso gliela riconoscono più o meno tutti. Però anche alcune persone non distanti dal mondo, penso per esempio a Marcello Veneziani, ha scritto, Giorgio Meloni è tosta, ma dietro di lei c'è il vuoto. Noi abbiamo visto anche in ultimi tempi che non sempre è successo elettorale, la conquista di consensi, basta. Ci vuole una squadra forte. Ecco, lei ogni tanto si sente sola? No. Io non mi sono sentita sola e non mi sento sola perché sono consapevole del partito che ho contribuito a crescere e a costruire. Mi sento sola nel racconto che si fa di Fratelli d'Italia, perché questa non è la Marcello Veneziani, non è il primo che lo dice, è una vulgata. La Meloni è brava, però la Meloni è sola. Io, diciamo, segnalo sommessamente, come sono solita fare, che noi abbiamo 50 parlamentari che in questa legislatura, dall'opposizione, sono riusciti, per esempio, 32 deputati di Fratelli d'Italia a impedire che l'Italia sottoscrivesse il Global Compact sulle migrazioni, cioè quel documento con il quale le Nazioni Unite volevano stabilire che l'immigrazione è un diritto fondamentale degli esseri umani e impedirci di fare politiche di difesa dei nostri confini, quando nessuno sapeva che fare, sono stati 30 parlamentari validissimi di Fratelli d'Italia che hanno fatto un blitz alla Camera e sono riusciti a far dire di no. Ci stavano facendo dire che l'immigrazione è un diritto di qualsiasi persona, quindi voi siete riusciti a fermarlo. Noi siamo riusciti a fermarlo dall'opposizione in 32, perché? Perché quando io ho fatto le liste di Fratelli d'Italia, le ho fatte io, chiaramente con la classe dirigente di Fratelli d'Italia, le ho fatte io perché ho perso la battaglia per le preferenze, perché io sono perché i parlamentari se li scelgano i cittadini e non li nomino i segretari di partito. Sono rimasta da sola in questa battaglia, l'ho condotta lo stesso, l'ho persa, ho provato a fare le liste, chiaramente prendendo quelli che io ritenevo essere i migliori per esperienza, per storia, per capacità. Quando uno arriva in Parlamento in Fratelli d'Italia, nella maggior parte dei casi è fatto il sindaco, il consigliere regionale, l'assessore regionale, c'è una persona che ha un'esperienza, uno storico, una capacità di rappresentare il territorio, che per me quello sì è classe dirigente, ma voglio dire abbiamo avuto gente che si è ritrovata a fare il ministro, che non si sa da dove arrivava e adesso si chiede a Fratelli d'Italia se è la classe dirigente per governare. Mi dice, io le garantisco che ce l'abbiamo. Chi è persone di Fratelli d'Italia che farebbe ministro dell'economia, ministro della difesa e ministro degli esteri? Ma io e lei ne abbiamo già parlato. No, quella era generale di classe dirigente, di Fratelli d'Italia, cioè non ha problemi di coalizione, sono proprio di Fratelli d'Italia. Chi lei le indica? Guido Crosetto, l'abbiamo detto cento volte, potrebbe fare indifferentemente il ministro dell'economia, potrebbe fare anche il ministro dell'economia, qual è il terzo che lei mi ha chiesto? Della difesa e degli esteri. Beh poi insomma ci so io che da qualche parte qualcosa potrei fare. Lei cosa vuoi fare? Gli esteri? Ho sentito dire che le piacerebbero gli esteri. Ma insomma potrei fare anch'io indifferentemente diverse cose. Anche gli interni. Poi io e lei avevamo parlato, voglio dire, in realtà di un ministro della giustizia, ecco in questo caso, che non era proprio di Fratelli d'Italia, era Carlo Nordio, che io insomma prenderei in considerazione. E poi non le farò diciamo un altro nome tra gli altri, ma io ce li ho intesa, non li faccio chiaramente per non creare problemi. Ma le garantisco che ci sono fiorfiore di nomi, di persone capaci, con più esperienza e con diciamo meno note, ecco più note e meno note. Poi non sempre la televisione vuol dire esperienza. Anche della mia generazione, io sono cresciuta con una generazione di oggi quarantenni, superati, quarant'anni anche io, ampiamente superati. Tra poco è il suo compleanno. Domani. Domani è il suo compleanno. Domani è il suo compleanno. 43. Lo aspettiamo insieme. C'è una generazione di persone che secondo me hanno tutte le carte in regola per governare ottimamente questa nazione. Dice ma sono giovani perché hanno quarant'anni. Giovani a quarant'anni, a trent'anni, Alessandro Magno aveva conquistato la Persia. Voglio dire, ma di che stiamo parlando? Solamente da noi chi deve scattare lo scivolo della pensione per essere qualcuno. Le faccio una domanda opposta. Non c'è però invece il rischio opposto. Cioè che invece, visto che Fratelli d'Italia sta crescendo nei sondaggi, che saltino su anche personaggi ambigui, penso per esempio i casi che sono successi anche in Piemonte, in Calabria, non c'è il rischio che si aggreghino. Lei come... Sì, è un rischio reale e qualcosa con cui noi abbiamo anche dovuto fare i conti perché appunto ci sono stati dei recenti, dei casi di persone che evidentemente non erano quello che noi immaginavamo. E guardi, è molto difficile per un partito, soprattutto per un partito medio grande, difendersi. La verità è che un segretario di partito non conosce tutti gli esponenti del suo partito. Io ho qualche migliaio di consigliere comunale, decine di sindaci, consiglieri regionali, assessori regionali. Non è che io posso sapere tutti i giorni che cosa fanno. La differenza la fa chiaramente intanto la capacità di selezionare la classe dirigente. Delle volte puoi fallire, ma io per esempio, per me le persone che in alcuni territori saltano con estrema facilità dalla sinistra alla destra, per esempio adesso è accaduto, insomma, no? In alcune regioni devi fare le liste. Persone che apparentemente non hanno nulla, però secondo me c'è qualcosa che non va se ieri stavi col PD e oggi vuoi stare con Fratelli d'Italia. Allora io nel dubbio, magari... Poi c'è sempre l'errore, non lo puoi sapere. La differenza che cosa la fa, come reagisci. Ecco, io non ho dubbi su come un partito debba reagire quando ha elementi per valutare che una persona non si sia comportata adeguatamente. Perché ricordiamo, Mario, io ho cominciato a fare politica quando hanno ammazzato il giudice Paolo Borsellini. Per me al punto 1 della lotta di Fratelli d'Italia della difesa e dell'interesse nazionale c'è la lotta alla criminalità organizzata, la lotta alla mafia, all'andrangheta, alla camorra. Non si passa in Fratelli d'Italia su questa roba qui. Per cui io sono estremamente rigida, però non rinuncio ad avere come Fratelli d'Italia come un partito inclusivo. Non è detto che se non sei cresciuto col pedigree della destra, a fronte della gioventura, non puoi essere comunque un politico valido. Noi abbiamo aperto i nostri confini e io ho trovato anche un sacco di gente validissima che veniva da altre storie politiche del centrodestra. Vi faccio vedere questa clip. Il mio benzinaio ieri mattina mi ha detto che per fare politica in Italia e avere successo bisogna parlare male degli extracomunitari e parlare bene degli animali. Salvini e Meloni, perfetto. Parla bene degli animali e parla male degli immigrati. Ma questo raffinato ragionamento non ho capito, era di Lerner o del benzinaio? Lerner l'ha fatto suo, perché adesso disprezza il benzinaio. No, 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 non ha capito la domanda. Non il ragionamento sul fatto di dire che bisogna parlare male degli immigrati, ma sul fatto che noi facciamo questo. Cioè questa era un'aggiunta di Gad Lerner o era la riflessione del benzinaio? Questa è una domanda seria che faccio. Non lo so, però non disprezzerei il benzinaio. Se è del benzinaio non ho niente da dire, perché il popolo, Vox Populi, Vox Dei, come si dice, io non ho niente da dire. Se è il ragionamento di Gad Lerner, beh da Gad Lerner mi aspetto che lega qualcosa, se vuole fare l'opinionista. Quindi lei non pensa di sfruttare l'immigrazione per creare consenso? Guardi, io... A rischio di creare un'ondata di razzismo? Questa è l'accusa poi che fa Lerner. Sì, io la conosco l'accusa e continuo a rispedirla al mittente. L'ondata di razzismo o il rischio che aumentino fenomeni di intolleranza non è legata a qualcuno che cerca di governare i flussi migratori. È determinata da chi non ha governato i flussi migratori e ha scaricato quella incapacità di governare sui flussi migratori sulle fasce deboli della società. Quello che Gad Lerner non ha capito è che il problema dei flussi migratori non lo vede lui a Capaglio con i suoi amici, mentre stanno lì tutti contenti nei loro salotti. L'immigrazione irregolare è stata scaricata nei quartieri di periferia, è stata scaricata sui lavoratori più umili, è stata scaricata dove la gente non si poteva difendere. Questo ha prodotto l'intolleranza o il rischio, produce il rischio di intolleranza, perché poi io continuo a ritenere che l'Italia sia la nazione più accogliente del mondo. Voglio dire, noi stiamo lì a parlare degli italiani razzisti, ma lo vediamo che cosa accade nel resto del mondo. Ragazzi, nei civilissimi Stati Uniti, nella civilissima Gran Bretagna, se tu vuoi andare a lavorare in queste nazioni da straniero, si deve prima dimostrare per quello che ti sta assumendo che non c'è un inglese che lo sappia fare meglio di te, cioè capito come gli altri difendono la loro cultura, la loro identità. Noi siamo il popolo più accogliente del mondo, ciò non toglie che i flussi migratori vanno governati, e io non rinuncerò mai a dire che il modo con cui la sinistra l'ha fatto in questi anni è un modo cretino di affrontare i flussi. Sì, cretino, perché noi non ci siamo occupati dei profughi, dei quali, diciamo, c'è gente che continua a vivere in territori di guerra che non arriverà mai da noi, di la quale noi non conosceremo niente, e abbiamo utilizzato il tema dei profughi per far arrivare qui centinaia di migliaia di immigrati irregolari, di migranti economici, che servivano ai grandi potentati per rivedere a ribasso i diritti dei lavoratori, per mettere manovalanza, mano d'opera a basso costo, non c'è niente di solidale in questo, il gioco del grande capitale è fatto anche contro gli immigrati. Quindi c'è stato un disegno, c'è stato un disegno. C'è un disegno, certo che c'è un disegno, Mario, certo che c'è un disegno, ma ce lo siamo chiesto perché è la grande speculazione che finanzia le organizzazioni non governative, ma ce lo siamo chiesto perché, ad esempio, l'abbiamo fatta noi la battaglia, ci sono due milioni di venezuelani che muoiono di fame, due milioni, sono molti di origine italiana, sono cristiani, sono compatibili con la nostra cultura. Lei ha mai sentito qualcuno di questi che parlano dell'immigrazione a tutti i cosi dire occupiamoci anche dei venezuelani? No, perché? Perché un'immigrazione compatibile con la nostra non è funzionale a questo disegno. Serve tutt'altro lavoro e tutt'altra immigrazione. Io non rinuncio a dire le cose come le penso e a cercare delle soluzioni. E guardi, a occhio, sono anche le soluzioni più presentabili. Perché quando leggo che adesso che c'è la guerra in Libia, l'Unione Europea parla di un blocco navale a largo delle coste della Libia per fermare le armi, mi si drizzano le antenne. Perché io di blocco navale parlo da tre anni e mi delitono tutti in Italia. Valerianni, porti! E vi faccia dire un'ultimissima cosa. Io non accetto l'accusa di razzismo. Non l'accetto. Perché io e Fratelli d'Italia siamo stati l'unico partito a porsi, per esempio, il problema di dove finiscono le nigeriane che arrivano in Italia dopo aver dato i soldi agli scafisti. Donne, trasformate in schiave nel disinteresse generale a fare le prostitute. Non frega niente alla sinistra di questa gente qui, di queste persone. Le abbiamo fatte noi le battaglie. Le siamo andate a cercare noi. Esattamente come noi ci siamo posti il problema di che cosa accade in Africa. del perché in Africa... Adesso le racconto questa storia velocissima. Giuro che poi mi taccio. Eravamo a... Non si tacche. No, no, vabbè, certo. Parliamo di altro. Per fare qualche altra domanda. Nel senso che le faccio fare ovviamente tutte le domande che vuole. Ma le racconto questa cosa velocissima. Eravamo a Ferrara, dove c'erano state bande di nigeriani che avevano dato a ferra a fuoco la città e quindi siamo andati a fare una manifestazione. Passiamo davanti alla stazione con il nostro grande tricolore e c'era una manifestazione di africani. E la stampa subito a dire vedete, gli africani si sentono minacciati da voi. Voi siete dei razzisti. Passiamo davanti alla manifestazione e gli africani mi chiamano. Onorevole Meloni, la volevamo ringraziare. Perché lei è l'unica che parla del colonialismo francese in Africa e di come le nostre nazioni vengono utilizzate e potrebbero essere ricche dalla moneta coloniale francese che in Italia fanno finta di non vedere. Grazie per il lavoro di Fratelli d'Italia. Ecco. Qualcosa alla sinistra potrebbe imparare da noi. Valeria, Valeria, portami il suo titolo. Allora, questo è questo che le faccio vedere all'intervista a Giuseppe Conte al Corriere della Sera di ieri che prima parlava del governo a mandare a casa e poi dice neanche il voto regionale sarà decisivo. Quindi il governo... Ma per Conte manco quello nazionale, guardi, a Conte proprio delle elezioni non interessa niente. Se gli interessasse qualcosa lui non farebbe il presidente del Consiglio. Ovviamente. Però guardi, Mario. Ma lei come pensa che finiranno le elezioni regionali? Io sono troppo scramantica per rispondere a questa domanda. Sono ottimista. Sia sul voto in Calabria sia sul voto in Emilia Romagna. Anche in Emilia Romagna. E se il centrodestra vincesse sia in Calabria in Emilia Romagna secondo lei è automatico che si vada elezioni? Beh, l'automatismo in Italia diciamo... In Italia le regole non sono più chiarissime. Diciamo che è automatico che noi chiederemmo di andare a votare. Almeno io chiederei immediatamente al presidente della Repubblica di prendere in considerazione l'ipotesi del voto. Perché? Perché a differenza di quello che si dice che io ricordo dai testi di diritto costituzionale il presidente della Repubblica non è un notaio. Cioè il presidente della Repubblica non è che deve semplicemente mettere un timbro su qualunque maggioranza possibile che esista in Parlamento. Dicono diversi testi di diritto costituzionale che io diciamo ho letto e sui quali ho studiato che l'istituto dello scioglimento anticipato delle Camere è proprio lo strumento che ha il presidente della Repubblica quando c'è troppa distanza tra quello che vuole la gente e quello che accade nel palazzo. Se il centrodestra vincesse anche in una regione come l'Emilia Romagna che è la cassa la roccaforte la storia della sinistra Il segnale sarebbe talmente evidente che io non so intanto non so come questi signori potrebbero rimanere diciamo abbarbicati alla poltrona ma ormai non mi stupisce diciamo non mi stupisco però credo davvero che anche il presidente della Repubblica a quel punto potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di diciamo di ragionare Potrebbe o dovrebbe? Secondo me dovrebbe ma lo dico in punta di piedi perché io non ho la pretesa di insegnare al presidente della Repubblica quello che dovrebbe fare diciamo che è quello che io gli chiederò in punta di piedi è quello che io gli chiederò di fare Parliamo di Sanremo? No, voglio dire solo questa cosa quando si dice il voto regionale non è decisivo ecco sappiate che è esattamente la frase che si dice quando si sta per perdere Quelli che stanno per perdere dicono sempre non è un test nazionale quindi è un buon è un buon Parliamo di Sanremo Mi rende ottimista L'altra sera mi ha citato la faccio sentire Sì e lei mi vuole quella e la rena La clip C'è una bella idea La faccio sempre dice se durante un governo di centro-destra noi avessimo dato 30.000 euro non lo so a chi vogliamo Mario Giordano per fare 10 minuti di monologo al festival di Sanremo cioè in un contenitore non politico lei sa cosa sarebbe accaduto in Italia arrivavano i caschi blu dell'ONU a parte che voglio dire io a Sanremo con la mia voce farei un figurone vogliamo andare insieme di Giordano Meloni di Giordano Meloni viva l'Italia però mi ha paragonato a Rula Gebral di cui lei non ha una grandissima opinione questo è un po' 60 milioni di cittadini americani che vogliono la segregazione razziale non l'ha detto questo per un'altra domanda ci sono 60 milioni di cittadini statunitensi il 50% però non posso rispondere a la domanda come vuole lei faccio un ragionamento perché faccio l'analista non faccio propaganda ma secondo lei sì o no vogliono la segregazione razziale non è come ho detto la percentuale è molto semplice la maggior parte delle persone che sono riuscite prego di non rivolgere allora mi rendo conto che è dura guardare una donna di colore come me che è omigrata che è diventata italiana ancora più difficile di quello mi rendo conto perfettamente dicendo questo torniamo alle cose serie questo è pa' questa è pa' cioè lei ha finito dicendo questo è pa' adesso mi ha paragonato a Rula Gebral allora e si sa che io diciamo non ho una grandissima stima di Rula Gebral come opinionista come giornalista nel senso io trovo e questo era oggetto anche di questo dibattito che le sue lo dico con rispetto ma insomma che le sue letture del mondo siano sempre molto superficiali per una persona che fa quel tipo di lavoro però adesso non intendevo intendevo semplicemente dire che questo fatto che si voglia prendere un giornalista schieratissimo perché Rula Gebral e lo dico anche questo con rispetto è una persona schieratissima cioè la famosa frase di Gad Lerner su Salvini e Lameloni che parlano bene degli animali e male degli immigrati Rula Gebral ha messo mi piace chiaro? cioè Rula Gebral è una persona che condivide questo questo ragionamento e secondo me non è giusto che si prenda un contenitore che non è un contenitore politico che guarda gente di tutte chiaramente le estrazioni e si pretenda di prendere una persona molto schierata per farle fare un monologo senza contraddittorio profumatamente pagato anche dagli elettori di quei partiti che parlano bene degli animali e male degli immigrati Valeria mi porti quell'altra eccola qua però io ho letto stamattina su un giornale un titolo così che lei adesso il RAI comanda lei ma quando ma sì ho letto anche io queste curiose ricostruzioni ma diciamo magari vediamo magari direi vediamo nei prossimi mesi tutti dicono no è una RAI libera dai partiti lei invece dice no guardi allora la RAI libera dai partiti non è stata mai la RAI non è nessuno di quelli pure che dicono che la RAI deve essere libera dai partiti quando sono arrivati al potere e io al governo non ci sono stata segnalo sommessamente negli ultimi dieci anni e più poi hanno tirato fuori i partiti dalla RAI vediamo nei prossimi mesi se miglioreranno i dati sulla presenza di Fratelli d'Italia che segnalo essere abbastanza sottostimata sia nei TG sia nei talk in tutti i programmi diciamo politici della RAI e per carità ma saremo chi vorrebbe a chi vorrei a cantare ma io non vorrei non vorrei un giornalista ecco neanche lei nel senso non credo che Sanremo debba essere un contenitore politico penso che Sanremo debba essere il festival della canzone italiana e questo fatto di usarlo ogni volta per metterci il monologhetto la frasetta la cosetta sempre contro il centrodestra poi storicamente siamo sempre noi quelli che devono essere il bersaglio del festival di Sanremo io la trovo stucchevole è il festival della canzone italiana chi ci vorresti al festival della canzone italiana non lo so vorrei Albano Albano anche mi dai Donato la clip su Salvini magari sono parole scomode magari bisogna fare dei discorsi di capodanno più melliflui più incolori più indolori più insapori dritti ragazzi o facciamo in fretta o questo paese si spegne questo era Salvini che commentava il discorso di Mattarella prendendo nelle distanze definendolo un po' lasciando capire che lo definiva un po' melliflui lei invece l'ha elogiato il discorso di Mattarella di fine anno così anche subito dopo su Trump dopo che c'è stata l'azione in Iran Salvini ha provato subito in modo abbastanza entusiasta e lei invece ha tirato un po' freno a mano tanto che le porto l'altro titolo è stato sottolineato il fatto che ci sia un certo smarcamento lei si sta smarcando da Salvini guardi le posso dire Giordano che questo modo di leggere la politica nei miei confronti adesso non vorrei voglio dire una cosa è maschilista è un po' sì è un po' misogino cioè come se il ruolo mio dovesse essere sempre quello di stare lì a fare la spalla di un altro io sono segretario di un partito politico il mio partito politico il partito politico io ho l'onore di guidare ha una sua identità non è la sovrapposizione dell'identità di un altro io ho sempre detto quello che pensavo e non sempre le mie posizioni sono sovrapponibili con quelle di Matteo Salvini altrimenti mi sarei iscritta al partito di Matteo Salvini fa un po' effetto che due leader no fa effetto oggi poi adesso entriamo nel merito fa effetto oggi ma io ho sempre detto quello che pensavo e non sempre le mie posizioni o le mie scelte o quello che ha fatto Fratelli d'Italia è stato identico a quello che faceva o diceva la Lega e Matteo Salvini per esempio ma facciamo parte di due diverse famiglie a livello europeo abbiamo fatto tante scelte compatibili ma diverse siamo alleati politici non siamo la stessa cosa viva Dio altrimenti faremmo un partito unico solo che però lei sta dando un'idea di un po' più di moderazione su alcuni temi di moderazione adesso entriamo nel merito ma su alcune cose non sono d'accordo che si possa trattare di moderazione adesso le entro nel merito di tutti e tre i temi che abbiamo citato semplicemente prima Fratelli d'Italia era il 4% la Lega era diciamo tra il 20 e il 30% e quindi la posizione di Fratelli d'Italia era meno visibile oggi Fratelli d'Italia cresce nel consenso diventa un attore più importante e si nota di più quello che diciamo noi o si sottolinea di più però allora sul discorso di Mattarella atteso che no 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 però le dico un fatto di metodo un fatto di metodo no un fatto di metodo lei sa meglio di me da giornalista che il 31 di dicembre siccome anche i giornalisti e tutti quanti vogliono poter diciamo stare a cena con le proprie famiglie il discorso del Presidente della Repubblica comincia a girare sì prima prima no si manda un po' se i giornali lo hanno così possono preparare i pezzi ovviamente e arriva anche a noi quindi quando io ho diciamo i giornali non escono telegiornali i telegiornali chiedo scusa no il primo non escono il 31 di dicembre esatto sì chiedo scusa i telegiornali cominciano a lavorare e quindi quando io ho commentato il discorso di Mattarella non è che avevo letto quello che aveva detto Salvini Salvini tra l'altro è intervenuto dopo Mattarella semplicemente a me pareva un discorso nel quale il Presidente della Repubblica aveva diciamo evitato tutti i temi divisivi è legittimo io volevo solo tentare sul punto di quali sono i vostri reali rapporti i nostri reali rapporti sono buoni delle volte condividiamo le cose delle volte le condividiamo di meno delle volte facciamo scelte diverse per esempio sul tema del referendum io la capisco la posizione di Salvini cioè Salvini alla fine presta le firme della Lega per presentare il referendum confermativo sul taglio del numero dei parlamentari ritenendo c'è stato il taglio del numero dei parlamentari che dovrebbe diventare operativo se si chiede il referendum consultivo si rimanda l'entrata in vigore e quindi si rende possibile l'elezione allora secondo alcuni chiaramente depositando il referendum e avendo fra sei mesi il taglio dei parlamentari molti partiti che stanno in sofferenza potrebbero ritenere che gli conviene andare a votare prima che si celebri il referendum questa è la ragione per la quale Salvini che pure ha votato il taglio dei parlamentari alla fine ha scelto di sotto io non l'ho fatto intanto perché a me piace sempre diciamo essere più lineare sì io ho votato quattro volte il taglio dei parlamentari e quindi non può chiedere il referendum e non può chiedere la posizione ma poi perché io ritengo che invece il fatto che ci sia il referendum potrebbe essere utilizzato contro il voto cioè ieri in una trasmissione televisiva dicevano scusi ma le pare che andiamo a votare prima che si taglino c'è qualche centinaio di parlamentari e ci troviamo di nuovo il Parlamento eletto con quasi mille rappresentanti e dopo un mese i parlamentari vengono tagliati allora dobbiamo aspettare siccome io sapevo che avrebbero fatto questo gioco ho detto nel dubbio io diciamo taglio i parlamentari subito anche perché io penso che questi vanno a casa comunque in ogni caso se loro vanno a casa comunque tanto valeva andare a votare subito con i parlamentari tagliati così la riforma l'avevamo fatta avevamo un Parlamento le faccio vedere ancora questa clip mi fate vedere Peppone voglio darvi una grande notizia tra qualche giorno comincieremo la costruzione della Casa del Popolo che conterrà una biblioteca con bei libri una sala per il ballo il cinema e altre manifestazioni culturali la quale sarà la vostra casa la Casa del Popolo la Casa del Popolo dove troverai i soldi mi domando e adesso che vi ho dato una grande notizia ecco allora Valeria se mi porti l'altro contributo l'altro giorno a Brescello Salvini ha detto Peppone oggi voterebbe Lega Peppone voterebbe Lega o Fratelli d'Italia o il PD potrebbe votare entrambi il PD il PD la vedo male il PD la vedo male io ne incontro molti come accade anche a Salvini incontro molti esponenti di sinistra storica che mi dicono guardi io ho una grande crisi di identità perché ho votato tutta la vita a sinistra adesso mi sento rappresentato da voi io rispondo sempre la crisi di identità non ce l'ha lei ce l'ha la sinistra italiana allora ci fermiamo solo qualche istante siamo in una redazione lei ha fatto mai la giornalista? io sono giornalista professionista quindi sarà bravissima a fare i titoli quindi tra un po' faremo i titoli faremo la prova dei titoli restate lì grazie 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 2020, perché lo dice il Times e quindi ci crediamo anche noi. Che cosa succede ai 5 Stelle? Guardiamo Di Maio. Ministro, buongiorno. Posso chiederle sulla Libia come è la situazione? È abbastanza complicata, ma la seguiamo con molta attenzione. Grazie. Ma nel Movimento 5 Stelle, sono alle mani. Nel Movimento 5 Stelle, che succede? Leonardo, puoi togliere un attimo la mano, per favore? Abbiamo visto solo perché l'abbiamo visto un po' nervoso. Che succede ai 5 Stelle? Guarda, io penso che la crisi dei 5 Stelle sia irreversibile. L'ho detto in tempi non sospetti. Intanto perché i 5 Stelle non avevano nulla che non fosse la retorica anticasta, no? Non avevano un'identità, non avevano una visione del mondo. Se lei ci fa caso su tutte le grandi questioni che dividono oggi la politica, loro non hanno mai chiarito quale fosse la loro. Cioè, loro hanno potuto fare indifferentemente lunedì il governo con Salvini e martedì con la Boldrini, perché per esempio sul tema dell'immigrazione nessuno era mai riuscito a capire come la pensassero i 5 Stelle. Mai. Mai. Quindi le dici un Movimento senza identità. Era un Movimento senza identità. Non è un partito nel senso che non ha un radicamento sul territorio, non ha uno storico. Aveva questa chiaramente idea dell'arriviamo noi, cambiamo tutto, cambiamo i codici della politica. Non avevano una preparazione, secondo me anche la gavetta nella vita serve in tutte le cose, anche nella politica. E quindi quando chiaramente si sono ritrovati al potere non l'hanno saputo gestire. Sì, è possibile una confluenza nel PD? Ma qualcuno tenterà di salvarsi, insomma, andando nel PD. Bisogna anche vedere quanto... Sì, è possibile. Ma è un fatto di chiarezza, di questo io sono contenta. Ho sempre ritenuto che i 5 Stelle fossero l'altra faccia della sinistra. Lo dissi a Salvini quando invece il governo riguarda che secondo me sono strutturalmente di sinistra, non puoi fare politiche di destra con gente che poi di fatto è di sinistra. Per cui è un fatto di chiarezza il ritorno al bipolarismo. Un sistema in cui ci sono due visioni del mondo distinte e contrapposte. La politica si fa sulle idee, non sulla niente. Però anche il PD sta cambiando. Buona valeria, ce l'abbiamo. Abbiamo provato a scherzare un po' sul simbolo che era il partito democratico della sinistra che rischia di diventare... C'è questa possibilità... Il partito democratico delle Sardini. Guardi, allora, sì, ho letto che Zingaretti vuole cambiare tutto, ma... Sì, cambiare nome, un nuovo nome. Sì, ma lui può cambiare... Adesso, per carità, sempre con rispetto, la politica, io, anche gli avversari, capisco i movimenti, le differenze interne, ma io credo che ci sia proprio un problema serio di linea politica. Per quella che era la sinistra e che, insomma, era la forza politica vicina ai più deboli, vicina agli ultimi, vicina ai più fragili. E poi io mi sono ritrovata... Non dimenticherò mai che ho fatto la battaglia contro un governo di sinistra per togliere l'indennità d'accompagnamento e la pensione di invalidità dal calcolo dell'Isee. Cioè, questi avevano fatto una riforma, per cui se tu prendevi l'indennità d'accompagnamento, ti consideravano ricco e quindi ti facevano uscire dai servizi sociali. Quindi ha dimenticato i poveri. Ha dimenticato le persone normali, le persone comune. Si è schierata con i grandi potentati economici, per cui appunto, e poi quando sono le banche, quando sono il grande capitale, quando sono no, e tutto quello che ci siamo detti. Si è cominciata, appunto, ha trovato questa sua presunta identità su questo tema dell'immigrazione, per cui ha, diciamo, scavalcato il sud d'Italia per andare direttamente al sud del mondo. Non ha più saputo parlare alla propria gente e si è ritrovata una grande crisi di identità. Oggi paga questa crisi di identità. Ti puoi nascondere dietro tutti i pesci che vuoi, ma questo è il tuo problema. Facciamo, visto che mi ha detto che è giornalista, facciamo una prova di titoli. Ce l'abbiamo, Paolo? Noi abbiamo creato il George Express, guardi se le piace. Il George Express. E qua abbiamo due righe di titolo, per tre titoli che le chiedo. Il primo è il futuro del centrodestra. La donna che cambierà al 2020, dice il Times, se deve fare un titolo su due righe che stiano giornali sul futuro del centrodestra, così abbiamo già dato il titolo anche alle agenzie che ci stanno seguendo. Il futuro del centrodestra è... Eh, una bella domanda, un bel titolo. No, il futuro del centrodestra è il governo della nazione, quindi il problema è come titolarlo. Io sono certa che questo sarà l'anno in cui, diciamo, sempre se arrivano le elezioni, il centrodestra vincerà quelle elezioni. Apro e chiudo parentesi, poi le faccio il titolo. Nonostante tutti i tentativi che stanno facendo adesso di modificare la legge elettorale, perché adesso l'ultima trovata è la legge elettorale proporzionale, la legge elettorale proporzionale. Non le piace. Non è che non mi piace, la legge elettorale proporzionale è una legge per continuare a fare gli inciuci di palazzo, fare votare la gente, il giorno dopo fregarsene di quello che la gente ha votato, mettersi d'accordo in Parlamento e fare governi che nessuno ha scelto per fare cose che nessuno ha chiesto. La legge proporzionale... Questa è una vergogna. La definirebbe una legge truffa, il proporzionale? Il proporzionale oggi è assolutamente una legge truffa. Oggi il proporzionale è assolutamente una legge truffa e loro lo dichiarano perché appunto dicono noi i governi li dobbiamo fare in Parlamento, chi se ne frega, la campagna elettorale. E quindi il futuro del centrodestra è il governo della nazione, cinque anni di risultati. Proviamo a vedere se ci sta. Prima riga il governo della nazione, cinque anni di risultati. Un po' celebratino. No, un po' celebratino. Un po' celebratino. Ma è Giorgia Express, mica Repubblica. Ma no, questo è vero. Però diciamo che come riga il governo della nazione, cinque anni di risultati. Inizio a pensare sull'altro invece. Un titolo sul futuro del governo, l'attuale governo. Un titolo sul futuro del governo è giorni contati per Giuseppi. Giuseppi. Allora, giorni contati per Giuseppi. Questo è un po' più sproporzionato perché la prima riga è più lunga, la seconda è più lunga. Eh vabbè, poi adesso non ce l'ho da più. Il governo della nazione, cinque anni di risultati. Sì, un po' celebratino però. Vabbè, però non è male. Ne avete messo anche la foto. Per Giuseppi. Per Giuseppi. Questo è il titolo. E invece l'ultimo è il più difficile. L'ultimo è il più difficile. Facciamo così perché... Sclamativi. No, sclamativi mai nel titolo. Non si usa. No, no, no. Sclamativi poi io li detesto. Non li metto mai da nessuna parte. Questo qua. E l'ultimo invece perché lei è giornalista, adesso è una giornalista tutt'ottombo, quindi non solo politica ma anche sulla vita personale, peraltro abbiamo visto interviste su chi in questi giorni. Quindi il futuro del suo privato, la sua vita privata. Mi stiamo guardando. Io la ho. Il futuro del 2020, come se l'immagino al 2020. Giorgio Meloni, guarda che bella cosa è. 43 anni e non sentirli. Ricordiamo. 43 anni e non sentirli, che sta per compiere gli anni. Fra l'altro ringraziamo Giorgio Meloni che è qui con noi anche con una febbre, un'influenza. 43 anni, ha dichiarato l'età. Domani compie 43 anni, l'ha detto lei, lo posso dire anch'io. 43 anni. Guardi, sull'età io lo dico sempre, se mi chiede il peso che marra... Allora, lei è andata al cinema a vedere Cracchi? Sono andata al cinema? A vedere Cracchi? No, purtroppo no. Io ne faccio vedere uno spezzone. I nostri soldi, quelli che ci hai rubato. Non li ho rubati, me li avete tirati addosso. Erano monetine che io ho raccolto da terra uno ad una, poi le ho versate in un paradiso fiscale. Ecco il mio tesoro, monetine. Siete venuti apposta, siete venuti apposta qui a casa mia per cercarlo. Venite, venite. Casa mia è aperta per tutti quanti voi. Potete scavare nel giardino per cercarlo il mio tesoro. Alzare i letti, dove le avete trovate? Quelle monetine. Questo è Raffavino che interpretava un'interpretazione straordinaria. Devo dire, pazzesco. Irriconoscibile. Complimenti anche ai trucchatori, voglio dire. Nel senso, un lavoro è con loro. Fara un percorso lunghissimo di trucco. Un'interpretazione straordinaria, ma invece sul Cracchi, la riabilitazione, non la riabilitazione, c'è molta discussione a questo proposito. Lei cosa ne pensa? Guardi, penso che sia un tema molto complesso. Io vengo da una storia che, insomma, come lei sa, quando finì la prima repubblica era dall'altra parte della barricata. Io ho cominciato a fare politica in quegli anni. Ho cominciato a fare politica durante Tangentopoli, quando, insomma, c'era l'idea di questa classe dirigente che aveva tradito la nazione, che aveva... Era a San Raffa e la tirare le monetine. No, non ero a Raffa e la tirare le monetine. Ma sarebbe andata? Non mi capitò, insomma, erano proprio quelli probabilmente i giorni nei quali cominciavo a fare politica adesso, sì, 92 credo fosse. Per cui sì, è proprio nel 92 che io ho cominciato a fare politica. Quindi io ho sempre visto quella classe dirigente come qualcosa di distante anni luce da me. Oggi ho discreta esperienza alle spalle e delle volte guardo a quella classe politica complessivamente e guardo a quella che c'è oggi e mi dico che con tutti i limiti che quella classe dirigente ha avuto e le responsabilità che ha avuto, perché ne ha avute oggi. Se noi ereditiamo, per esempio, il debito pubblico che abbiamo ereditato, lo dobbiamo anche a quella classe dirigente, beh però c'era uno standing, una preparazione, una profondità di ragionamento che difficilmente... Quindi rimpiange la statura e la levatura. Rimpiango la prima repubblica? No. Rimpiango una classe dirigente che doveva dimostrare di essere migliore del popolo che aveva la presunzione di rappresentare, che doveva dimostrare di essere un passo avanti? Sì. Cioè io non solo per l'uno vale uno dei 5 stelle, per me uno non vale uno. Per me tutti valgono ugualmente lo stesso punto, tutti valgono uno nel punto di partenza, ma dove arrivi dipende da quello che sai dimostrare tu. Faccio vedere un altro clip di un altro film che ha fatto tanto disputa e ne abbiamo discusso anche qua a martedì scorso, che è Cozzalone. Bambini, se ben guardate, lì, tra tutte quelle cicogne, c'è una cicogna stradica, un po' lunadica, che sbaglia rotta e si dirige verso l'Africa. Nessun pomignolo, nessun palazzo, perciò i bambini mi consegna un po' capasso. E poi si murmura, ma ti rivelo, che questa in Africa c'è il suo cicogno nero, questa cicogna che sbaglia rotta, oltre che strobica, è la mia. Salviniano, razzista, come è stato detto in un primo momento, buonista, eccessivamente buonista. Ci crede che non ho visto il film? Non ha visto che questo? No, sono colpevole. No, per me è un obbligo. Allora, non sono riuscito a vedere il film, quindi non sono in grado di giudicare il dibattito che si è creato. Mi fa sorridere, questo devo dire la verità, appunto che nello stesso film e della stessa persona si dica il giorno prima che è un razzista e il giorno dopo che è un buonista. Forse questo nostro bisogno di infilare sempre la divisione, la politica, il battibecco, lo scontro su tutto, alla fine non ci aiuta, ma ci possiamo guardare un film? Poi se ti piace, ti piace, non ti piace, non ti piace, ma chi se ne frega? Poi non lo so, però a me che Cozzalone ha sempre fatto ridere, e io quando lo guardo, me lo guardo. Poi è vero che ha questa capacità di farti riflettere, ne abbiamo parlato in un'altra occasione, di farti riflettere anche su temi molto complessi, sempre con un sorriso. Non so se in questo caso sia accaduto, oppure no, ho letto chi diceva il film, lo farei. Lo vado a vedere, lo vado a vedere. Non lo so, lo andrò a vedere. Valeria, mi porti la famiglia, visto che stiamo parlando di argomenti così, la famiglia reale, Meghan, il Megxit, Meghan che è il principe Harry che lascia la corona, lei fosse stata la regina, che avrebbe fatto? Guardi, io niente, nel senso capisco la scelta di Harry, francamente. Poi io non sono una grande sostenitrice, diciamo, in generale. Delle monarchie? Beh, insomma, penso che abbiano un po' fatto il loro tempo. Poi ognuno, ogni nazione decide come rappresentarsi. Ho letto una vignetta, come al solito, molto divertente, di Federico Palmaroli, di Osho, dove c'era lui che legge, lei che gli fa un applauso e lui dice vanno preso da McDonald's. Mi sono molto divertiti. Le faccio vedere la Riporto in Italia, invece. Ce l'abbiamo la clip dell'imprenditrice? No, della commerciante. Oh, Brunilde, la ho chiudere a mia, eh. Merceria della 99enne Brunilde Cocchi, aperta a Prato nel 1927, rischia di chiudere per sempre. Tutta colpa dell'obbligo del lettore post, introdotto dalla legge di bilancio. Queste riforme le danno altro e l'OIA. Queste due. Perché in casa mia non usava stare o me le fanno ora, coi telefonini sui gradini delle case. Bisognava lavorare. Le luni è rimasta in centro, non ce ne sono altre. Tutte chiuse. Eh, se non ci danno la frarroga, si chiude. Una delle tante commercianti che chiude, perché non ce la fa a sostenere il peso di questo ulteriore... Al di là della questione economica, è anche una questione di vita sociale, no? Questo è il negozio che rimane, di presidi delle città. Sono presidi che stanno chiudendo. Stiamo rischiando di perdere i centri storici. Certo, ma stiamo rischiando soprattutto di spopolare ancora di più una serie di territori che vivono il problema e il rischio dello spopolamento. Abbiamo letto ad un altro comune dove chiude l'unico bar che è rimasto e mettono proprio il cartello sulla porta dicendo non ce la facciamo più, il panino andatelo a comprare al comune accanto a due chilometri di distanza. E nessuno si pone questo problema. Però, alla fine, per fare cosa? Perché il tema, Mario, è questo. Cioè, ma noi, tutti questi balselli, la fatturazione elettronica, lo scontrino elettronico, l'obbligo di contante, per aiutare chi? Dice, per combattere l'evasione fiscale. L'evasione fiscale non sta negli scontrini dei bar. La grande evasione in Italia non sta negli scontrini dei bar. Stanno i grandi. No, ma noi abbiamo fatto una serie, grandi, le multinazionali che spostano la sede fiscale, le pro di Carosello, il tema della web tax. Noi avevamo fatto un emendamento, ce l'hanno bocciato. Il tema degli extracomunitari, ne abbiamo parlato, mi pare, anche insieme, ce l'hanno bocciato. Il famoso emendamento con il quale volevamo che gli extracomunitari che aprono pagassero una cauzione di 30 mila euro che gli scalavamo dalle tasse perché tutti sanno che in moltissimi casi non le pagano le tasse solo a Prato un miliardo di euro di evasione. Di quello non frega niente nessuno. Noi facciamo chiudere la signora Brunilde. Complimenti, bravissimi. La domanda di Luisella Costamagna. Cara Meloni, il Times l'ha inserita tra le 20 persone che cambieranno il mondo. Per il futuro vedremo. Ma per il passato, essendo lei in politica da un quarto di secolo, anche con ruoli importanti di governo, istituzionali, ministro, vicepresidente della Camera, deputata, com'è che in tutto questo tempo, non dico il mondo, ma almeno un po' l'Italia non è riuscita a cambiarla? Mi vuole un gran bene Luisella Costamagna da sempre. No, ma detto questo, la domanda la capisco. Però oggettivamente, Mario, il massimo che ho fatto nella mia vita in termini di capacità di governo è stato il ministro alla gioventù senza portafoglio dell'allora governo Berlusconi. Ancora oggi, incontro, per quello che potevo fare da ministro alla gioventù senza portafoglio, gente che mi dice, sa che ancora noi abbiamo trovato lavoro grazie a quell'iniziativa del ministero della gioventù, eccetera. Però è stato il massimo con cui mi sono potuta misurare. Per il resto, io sono sempre stata all'opposizione, eppure dall'opposizione qualche cosuccia l'ho portata a casa. Voglio dire, quest'anno, in questa legislatura, una delle primissime leggi di iniziativa pro-popolare che sono state approvate all'unanimità dal Parlamento, quella sui seggiolini di Salva Bebé, è una legge che porta la prima firma di Giorgia Meloni, non lo dice nessuno, se la sono rivenduta a tutti, ma io l'ho portata in Parlamento. Dopodiché capisco, però io faccio, ho fatto un lungo percorso politico, ho sempre fatto al meglio il mio lavoro. Mi si dia la possibilità di misurarmi una volta con un ruolo importante, con un ruolo di governo importante, e vedremo se sarò in grado di cambiare qualcosa oppure no. Ma lei oggi, io lo so che lei è un po' tormentata dal tormentone, ma oggi si sente più mamma, più italiana, più cristiana? Mi sento tutte e tre le cose insieme. Anche un po' Giorgia. Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2. Genitore 1, genitore 2. 1, 1, 2, 1, 2. Genitore 1, genitore 2. Genitore 1, genitore 2. 1, 2, 1, 2. Genitore 2. Basta, 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 ragazzi, è donato, fermatevi. Quella ne mancava, perché l'abbiamo vista in tutte le forme, ma posso dire... Posso dire? Magari fossi quella Giorgia all'inizio. Abbiamo pensato di fare... Va bene una qualunque delle tre, io sarei volentieri una di quelle tre Giorgia all'inizio. Abbiamo pensato di farle questo ragazzo, perché appunto domani è il suo compleanno, lei lo sta aspettando qua con noi. Anche perché, mi porti Valeria, abbiamo pensato che lei meritava con queste visualizzazioni che ha avuto il disco Superdoro. Il disco Superdoro. Ma questo è stupendo. 8 milioni e mezzo di visualizzazioni. Ma questo è stupendo. 8 milioni e mezzo di visualizzazioni. Ha capito, sì. 30 anni di politica e alla fine hanno visto solo ragazzo. L'abbiamo messo al fondo, perché sapevo che insomma a posta di... Però insomma è un risultato importante. Vabbè, mi darò la musica, Magari. Grazie, davvero, questo lo attaccherò, lo artigerò nella mia abitazione. Il nostro regalo di compleanno. Come lo festeggia il compleanno? Lavorando, non mi dica così che non ci crediamo. No, allora no, un po' diciamo metà e metà. Per metà domani lavoro e per metà mi sono presa la giornata. Ho promesso a mia figlia che stavamo un po' insieme, perché lei tra l'altro ha avuto la febbre, per cui ecco, è lei che me l'ha attaccata, l'untore, come sempre, il bambino. E quindi metà e metà, un po' con la famiglia e un po' un minimo lavorichiamo. Senta, una battuta. Grazie, grazie. Come si immagina qui tra un anno? Questo è l'anno in cui lei potrebbe cambiare il mondo, diceva Times. Come si immagina qui tra un anno? Se ci saremo quando ci chiudono prima. Mi immagino qui a dover rispondere a persone che mi fanno domande su perché abbiamo fatto delle scelte coraggiose che faremo al governo della nazione. Quindi al governo, al governo. Allora io la ringrazio, adesso è stato con noi, le auguro buon compleanno. Grazie a voi. Voi restate con noi perché tra 60 secondi...